Ragazzi, oggi grande giorno, si torna in campeggio e oggi andiamo a montare la veranda. Mi sa che con me porterò queste ciabatte belle pelose dentro, prima però gli devo dare una pulita. Il pianoforte rimarrà qua per qualche giorno. Ragazzi, siamo arrivati. Non c'è proprio tantissimo sole, ma almeno non piove, quindi ne approfittiamo e ci diamo da fare finché possiamo. Una delle prime cose che devo sistemare è il barbecue. Grazie a tutti. L'aiuto di mia madre. Adesso cerchiamo di mettere in bolla la veranda, che ci sarà mio padre che continua a dire mezzo centimetro in qua, mezzo centimetro in là, di su, di giù. Mezzo centimetro in qua, mezzo centimetro in là. Su, giù, su, giù. Oh, come viene bene. Ragazzi, l'acqua è gelida. Bene ragazzi, prima notte in campeggio è andata. Ho dormito come un ghiro e niente, ci voleva veramente una nottata di riposo dopo tutta la giornata montare la veranda. Comunque adesso invece tocca alzarsi e tornare a sgobbare, quindi diamoci una mossa. Quando vuoi grigliare a tutti i costi, anche se fuori piove. E dopo questo pranzo si torna a casa. Grazie a tutti.